18 anni senza Fabrizio Meoni, in realtà non c'è bisogno di arrivare al suo anniversario per ricordarsi di lui, specialmente in questi giorni di gara per la Dakar 2023. Fabrizio rimane un punto di riferimento. Quest'anno ho visto anche grazie a tutti gli amici che stanno partecipando a Dakar, che fanno parte degli entourage anche dei team da Dakar, e mi dicono ti aspettiamo, ti aspettiamo, perché ho annunciato quest'anno anche inaspettatamente questo aspettarmi, perché io alla fine vivo solo di questa grande luce che ha portato là, secondo me, Fabrizio e che ancora dopo 18 anni rimane forte. Fabrizio è stato un grande campione dal volto umano e il figlio Gioele ha ereditato proprio questo. Io andrò il prossimo anno, spero, se tutto va bene, a fare la Dakar appunto nel 2024. La Dakar particolare perché la farai sì dal punto di vista sportivo, ma soprattutto per i tuoi progetti sociali, anzi i vostri, perché è proprio il tuo babbo che ha iniziato. Io andrò là per arrivare in fondo a una categoria massacrante, difficile come la Balmoto, quella senza assistenza, perché è un sogno che ho nel cassetto da tanti anni, da più di 18 anni, perché era nato con Fabrizio questo sogno di partecipare a Dakar insieme e farlo da amici, da padre e figlio, proprio in totale divertimento e avventura, quindi senza qualche vellità di classifica. Ma lo farò come parte di un tassello, di un progetto più ampio che secondo me è quello che veramente mi ha trasmesso Fabrizio e quello che veramente voglio portare avanti, che è l'aspetto sociale e l'aspetto quindi di poter raccogliere dei soldi, dei fondi per donarli poi a una quarta scuola che verrà costruita in periferia di Dakar, che porterà il nome anche di Chiara, di mia sorella. Grazie a tutti.